Business in Russia, molte opportunità persino in periodo Covid, ma anche qualche impasse. E non si tratta di sanzioni occidentali. Certo c'è da dire che l'impressa straniera, la piccola e media impresa in particolare straniera, non è stata supportata come sono state supportate le aziende russe. Questo secondo me è un inconveniente. Altre misure di supporto a seconda dei vari settori sono state elaborate, sono state elargite. Si poteva fare di più? Sì, senza dubbio si poteva fare di più. Il manchiere Vincenzo Trani, presidente della Camera di Commercio Italo-Russa, spiega che a suo modo di vedere a Mosca c'è stata una differenza di trattamento e chiede di equiparare le imprese a capitale straniero come le PMI russe. Tale posizione è stata anche formalizzata dal presidente della Camera di Commercio in una lettera. Vero è che in tutto il mondo la crisi pandemica ha scoperto il vaso di Pandora mettendo in luce le debolezze, ma anche i punti di forza delle industrie. Un discreto calo di fatturato c'è stato anche in Russia. Devo dire che la digitalizzazione delle imprese ha aiutato molto a sopravvivere la crisi Covid e in un paese super digitalizzato come la Russia è chiaro che questo impatto è meno evidente, ma certamente comunque presente. Mentre le sanzioni cambierà qualcosa con Joe Biden alla Casa Bianca? Il tema sanzioni è diventato un po' obsoleto, per cui non la vedo più una priorità quella di rinegoziare o ridiscutere le sanzioni. Non so quindi quale sarà l'agenda delle relazioni russo-americane, ma non essendo una priorità il tema delle sanzioni, dubito che questo possa essere modificato a breve.